Ciao, sono Valerio Novara. Il presidente degli Stati Uniti è Ronald Reagan. La sonda Voyager 2 ha scoperto un satellite di urano. Il 26 aprile un'esplosione alla centrale di Chernobyl in Ucraina terrorizzerà l'Europa. Ma sugli schermi televisivi d'Italia spopola la regina dei prodotti dimagranti e delle televendite, che tra qualche anno sarà arrestata per truffa. Parliamo di Vanna Marchi, raccontata attraverso interviste esclusive in una serie di quattro puntate su Netflix. Il suo successo è profondamente legato agli anni 80. Quelli dell'esplosione delle tv private, dei primi video musicali, delle soppopera, del benessere economico, la ginnastica di Jane Fonda, l'ossessione per la linea. L'ardosi, dovete fare qualcosa per migliorarvi, urlata la tv Vanna Marchi, che prima di approdare alle televendite faceva l'estetista e adesso rimprovera le telespettatrici con uno stile aggressivo che diventerà il suo marchio di fabbrica. Una donna che si è fatta da sé. Rimasta orfana del padre a 15 anni, Vanna Marchi inizia a lavorare da estetista. Tre anni dopo si sposa e ha due figli, Maurizio e Stefania Nobile, ma suo marito è un violento e la tradisce. Lei lo lascia, capisce che deve farcela da sola, si rimbucca le maniche e alla fine degli anni 70 approda alle televendite. Dal 1983 conduce insieme ai figli una trasmissione tutta sua, il Vanna Marchi Show, in onda in seconda serata su Rete A, ma non è soddisfatta. Vorrebbe di più. Magari un prodotto speciale, tutto suo. Un giorno, mentre prende un caffè in un motta grill, sua figlia Stefania le fa notare che tutte le persone intorno a loro hanno la pancia. Vendiamo uno scioglipancia, dice. In quel momento forse non sa neanche di cosa sta parlando, eppure propone il prodotto in tv ed è un successo. I centralini esplodono. In piena notte Vanna Marchi telefona un amico, l'imprenditore chimico Primo Tortini. Ho bisogno di una crema, gli dice. Lui le accontenta, ma si rifiuta di scrivere scioglipancia sull'etichetta e si limita a un più prudente crema riducente. Poco conta. Il prodotto diventa famosissimo. Tutte lo vogliono. Tutti vogliono Vanna Marchi. Da Catherine Spack a Maurizio Costanzo le trasmissioni in tv se la contendono. Il suo d'accordo, urlato con voce stridula, diventa anche un disco. E in men che non si dica, Vanna Marchi si ritrova addirittura a recitare. Pensate che nel 90 partecipa alla parodia dei Promessi Sposi con il trio comico Lopez Marchesini Solenghi, dove interpreta un'imbonitrice che vende prodotti per curare la peste. Poi il crollo. Nel 90 Vanna Marchi viene arrestata e condannata a un anno e undici mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta per il fallimento della società Vanna Marchi, quella attraverso la quale vendeva prodotti cosmetici. Perde tutto e il suo impero si sgridola. Ma non si dà per vinta. Se non può più vendere creme, allora venderà qualcos'altro. In fondo stiamo parlando della miglior televenditrice d'Italia, quella in grado di vendere addirittura anche l'aria. Torna in tv assieme alla figlia Stefania. Nel 96 fondano una nuova società, la ASCISRL di Milano, tra i cui soci figurano sua figlia e il suo maggiordomo brasiliano Mario Paceco Donasimiento, che diventa protagonista delle televendite nei panni di un mago in grado di dare a tutti numeri personalizzati per vincere all'otto, oltre a preziosi amuleti e rimedi per eliminare fatture e malocchio. Ma è una truffa e presto viene scoperta. Anche se vanno avanti per un bel po' di tempo, fino a quando nel dicembre del 2001 striscia la notizia non porta alla luce quello che succede dietro le quinte del programma, grazie anche alla collaborazione di una donna che si finge cliente. Parte un'indagine. Il 24 gennaio 2002 Vanna Marchi e la figlia Stefana Nobile vengono arrestate con altre cinque persone legate a vario titolo alla società ASCIS. Il mago Donasimiento fugge in Brasile. Così, mentre in Italia Vanna Marchi sconta nove anni e sei mesi di reclusione e sua figlia nove anni e quattro mesi, lui si rifà una vita da parrucchiere in Brasile. Condannato a quattro anni, nei suoi confronti non è mai stato emesso alcun mandato di cattura internazionale. Sono passati vent'anni dall'arresto. Da sette Vanna Marchi ha finito di scontare la sua pena. È tornata in piena attività. Nel 2015 ha condotto con sua figlia il programma Ora Parlo Io sul canale ITV Italia. Due anni dopo ha scatenato mille polemiche la notizia della loro partecipazione all'Isola dei Famosi che poi però è stata annullata. Intanto, tra comparsate e programmi tv, madre e figlia sono superattive sui social network dove in un video del 2020 Vanna Marchi ha provato a mettere in vendita addirittura se stessa. Obiettivo? Un milione di like. Non li ha raggiunti. Chissà, forse ci riuscirà adesso grazie a Netflix. Io vi ringrazio e vi consiglio di iscrivervi al canale Ciacchiazione se ancora non l'avete fatto e di seguirci sulle nostre pagine Facebook e Instagram di Ciacchiazione.